buongiorno signor labuf buongiorno tiana congratulazioni per essere stato eletto re del martedì grasso cosa che mi ha volto completamente di sorpresa per il quinto anno consecutivo allora sarebbe bello festeggiare bignè appena sfornati aspettavano voi continuo a portarmeli finché non scopo c'è già la notizia oh certo il principe il principe la mente ma il donio sta arrivando a new release non è la fine del mondo dille che ha fatto gran papà dunque o il gran papà ha invitato il principe al nostro bando in maschera stasera si fermerà a casa nostra come mio ospite personale o lotti è meraviglioso solo un piccolo consiglio come dice mia madre la via più veloce per il cuore di un uomo passa per il suo stomaco che cosa è stato oddio sei veramente un genio mi serviranno cinquecento di due bomboni che fa uomini per il ballo di stasera scusami papone questi che questi basteranno questi basteranno senz'altro lotti altro che avrò il mio ristorante stasera arriverà il mio principe e il sicuro che non lo lascerò scappare questi basteranno senz'altro lotti avrò altro che non avrò direttamente buongiorno signor la buff congratulazioni per essere stato eletto il re del martedì grasso eletto non eletto eletto mi fa veramente cagare buongiorno signor la buff